Siamo nel pieno della corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale contro le truffe, scende così in campo la polizia possale. Dall'esperienza acquisita nella tutela dei rischi di truffo online, la Polposta della Toscana mette così a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti, insomma temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza internet. A livello nazionale fanno sapere che uno dei tipi di compravendita su cui bisogna porre maggiore attenzione è quello delle case vacanze in affitto, che alla fine si rivelano inesistenti, ma bisogna aver cautela anche sull'acquisto di capi di abbigliamento e accessori griffati a poco prezzo sulle forniture di pellet, particolarmente appetibili nella stagione invernale, proposte da malviventi che in genere sfruttano loghi, indirizzi e denominazioni molto simili a quelle di venditori reali. Altra truffa particolarmente in voga è quella del cosiddetto pagamento di 1,90 euro per la partecipazione all'estrazione di smartphone o di piccoli elettrodomestici di particolare pregio, che innesca all'insaputa del malcapitato l'attivazione di un abbonamento a canone mensile. Tra i consigli della Polizia per evitare un Natal Amaro, anche quello di dare la preferenza a siti internet, certificati ufficiali e in particolare a quelli che rimandano ad un negozio fisico vero e proprio facilmente rintracciabile. Poi leggere sempre commenti e feedback di altri acquirenti, utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili e diffidare da chi chiede di essere contattato al di fuori della piattaforma di annunci con email ambigue. Anche questo, infatti, può essere il segnale di una trappola online.